Finisce in parità tra Badolato e Caolonia una gara molto combattuta in cui i contendenti hanno provato a superarsi sin dai primi minuti. La prima vera occasione dei padroni di casa, il gran tiro di Menervino con palla che finisce sul palo. Sono gli ospiti però a passare in vantaggio. Al 26esimo del primo tempo, gran tiro di Iavara con palla alle spalle di Menniti. Meglio il Caolonia in questa fase, la fase centrale del primo tempo, con ospiti vicino al raddoppio al trentaseesimo con un tiro di Murdocco. Le squadre vanno negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di un gol. La ripresa vede i ragazzi di mister Calabresi in avanti per riequilibrare la gara. Difesa ospite più volte impegnata da Cosentino, Valenti e compagni. La meritata rete del pareggio arriva al quarantesimo. Cabba trova Valenti in area di rigore che è pronto a mettere alle spalle di Audino. Alla fine finisce in parità, un pareggio giusto per quello che le due squadre hanno fatto vedere oggi in campo. Arriva così il primo meritato punto del Caolonia in questo campionato. Grazie a tutti.